adesso passiamo a sabato de rosa sabato de rosa che rappresenta l'invat istituto di valutazione usili e tecnologie dell'unione italiana cechi che ci parlerà di un tema importante cioè del coinvolgimento delle persone con disabilità nell'attività di test ovvero come coinvolgere anche in modo professionale queste figure fermo restando e poi sabato ti lascio direttamente la palla che siamo tutti ben consci che come non si può fare una verifica di accessibilità esclusivamente con tecnici e simon ci ha dato anche una spiegazione chiarissima su questo ambito non si può fare nemmeno solamente con persone con disabilità perché un esempio su tutti una persona non vedente chiaramente se la sua tecnologia non è in grado di identificare alcuni oggetti per il contenuto non può essere oggetto di verifica così come una persona non vedente non può verificarti l'effettiva analisi dell'algoritmo del colore e qui richiamando quello che diceva anche fabrizio usare gli strumenti automatici non sempre è detto che lo strumento automatico ci dà un supporto corretto alla verifica delle problematiche di accessibilità quindi è importante fare un non me ne voglio a coni un mash up una mescolanza di competenze e quindi l'importante è capire quali sono le competenze che devono avere le persone con disabilità coinvolte in questo tema grazie sabato innanzitutto di essere con noi e ti lascio ti lascio la palla visto che siamo in preambito calcistico buonasera a tutti mi sentite sì assolutamente sì perfetto buonasera e dunque sì allora come ha spiegato roberto da qualche anno diciamo io mi occupo di questo aspetto nell'ambito appunto delle attività che svolge l'istituto nazionale valutazione ausilie tecnologie e sostanzialmente è un è un'entità è un entità è un scusate perché vedo una finestra no perché la lingua perché mi chiede la lingua questa è una cosa di zoom che ti esce di che che lingua è impostata all'interno è una funzionalità di zoom che rompe le scatole che può ignorarla ignorarla direttamente se puoi no dire che credo di aver fatto le cose per bene credo è perfetto credo però non lo so va bene e comunque dicevo mi occupo per conto dell'istituto nazionale valutazione ausilie tecnologie che sostanzialmente è un è una entità che è stata creata proprio dall'unione italiana cichico vedenti che qualcuno saprà che in italia è l'associazione insomma l'ente maggiormente rappresentativo per la tutela dei diritti delle persone con disabilità visiva e nasce questa esigenza cioè di creare un istituto del genere proprio perché la tecnologia si evolve in fretta si fa fatica a seguire e come dire non basta soltanto diciamo così la buona volontà per cercare di come dire per cercare di arginare un po' e di seguire di affinare tutte le tecniche diciamo per poter dare suggerimenti per poter aiutare anche sviluppatori designer e quant'altro nella realizzazione diciamo dei progetti di piattaforme informatiche ma ci vuole un lavoro come dire sistematico ci vuole un lavoro in qualche modo scientificamente il più possibile inattaccabile ci vuole un lavoro che possa unire sinergicamente le competenze delle persone disabili che conoscono bene la tecnologia assistiva la padroneggiano bene insomma la tecnologia assistiva di cui dispongono però unitamente diciamo anche esperti esperti infatti e come dire l'istituto nazionale valutazione e uscite tecnologie sia si avvale anche proprio di esperti come per esempio lo stesso roberto e come dire è altre in qualche modo insomma altre professionalità. Detto questo ecco la verifica automatica abbiamo detto che la verifica automatica si sa che ha come dire purtroppo è interessante per accelerare alcuni processi ma si sa con altrettanta certezza nemmeno per chi conosce bene la materia sa con altrettanta certezza che la verifica automatica come dire può fallire su tanti aspetti diciamo così perché il controllo vero che può fare la verifica automatica è un controllo come dire di tipo in qualche misura sintattico e allora sintatticamente magari le cose da un punto di vista del linguaggio HTML più insomma le informazioni aggiuntive che possono essere non so tutti i taggari e tutte le altre cose gli altri orpelli come li chiamo io possono essere come dire tecnicamente inappuntabili però questo non certifica sicuramente che magari i contenuti che vengono veicolati i servizi che vengono veicolati attraverso le piattaforme digitali siano poi realmente accessibili tant'è che anche da parte del V3C che in qualche modo ha scritto come entità ha scritto le VCAG evidentemente si sente si capisce si conosce l'esigenza di avere anche delle verifiche soggettive unitamente a tutto il resto proprio perché il cerchio come dire si possa chiudere nella maniera più perfetta possibile insomma un cerchio di giotto va sembra il cerchio fatto bene e quindi e quindi nel processo nel processo diciamo di verifica soggettiva ecco soprattutto la verifica lato non vedente ecco richiede come accennava già Roberto eh nell'introduzione diciamo così al mio intervento ecco richiede già un aspetto importante e fondamentale cioè il non vedente eh può avere tutte le competenze possibili e immaginabili nel eh nel padroneggiare lo screen reader ma anche nel padroneggiare eh come dire nel padroneggiare eh come dire nel padroneggiare abbastanza bene diciamo la piattaforma dal punto di vista del codice ma eh deve necessariamente essere assistito da una persona eh vedente esperta evidentemente eh essa stessa di eh tecnologia assistiva quantomeno a livello diciamo così base ed esperta evidentemente anche del eh della della disciplina relativa all'accessibilità perché questo a noi è capitato proprio per esperienza eh per esperienza eh lavorativa è capitato di dover condurre delle verifiche di dover condurre delle verifiche e le le verifiche stesse condotte dalle persone non vedenti purtroppo erano verifiche parziali e forbianti perché se sulla pagina sono presenti oggetti o sono presenti elementi che non si riescono a raggiungere o con la tastiera con la navigazione attraverso la tastiera o attraverso in generale la 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 navigazione della pagina perché magari sono oggetti che sembrano come dire in qualche misura essere non vengono proprio interpretati diciamo intercettati dallo screen reader a quel punto lì è evidente che la verifica non può essere completa e addirittura appunto può essere forviante perché per me non vedente che sto conducendo la verifica quell'oggetto neanche c'è quindi è qualcosa che mi manca dal punto di vista dell'informazione e per cui mancandomi è evidente che non non posso a quel punto lì senz'altro come dire produrre evidentemente un report eh relativo alla verifica soggettiva un report attendibile eh sino in fondo quindi questo è un aspetto fondamentale cioè se si vogliono condurre delle verifiche serie fatte bene il ci vuole appunto la persona non vedente che padroneggi perfettamente la tecnologia assistiva perché ne conosce evidentemente insomma tutte le potenzialità d'uso e eh però eh appunto non basta perché deve essere affiancata da un'altra persona che evidentemente gli deve dire se nell'esaminare la pagina sta saltando qualcosa magari qualcosa anche di importante faccio un esempio banale non so si sta eh affrontando per esempio la verifica di accessibilità di un di una piattaforma bancaria voi sapete che le piattaforme bancarie quando si eseguono operazioni eh come dire di un certo tipo operazioni delicate cosa succede se non si interagisce un certo tempo arrivano eh dei pop up insomma comunque arrivano degli oggetti che ti segnalano che non so che la sessione sta per scadere se se a me questo oggetto lo screen reader non lo intercetta perché l'oggetto non è stato costruito in maniera corretta eh come eh come per esempio non so come modale con la quale io devo interagire della quale io devo avere contezza e devo agire andando a dire voglio continuare a navigare e quindi diciamo così azzerando il tempo di eh azzerando il tempo di eh interazione eh se questo oggetto io non lo percepisco è evidente che non me ne accorgo e quindi la mia verifica a quel punto eh oltre al fatto che mi arrabbio perché magari sto facendo una cosa però poi quando cerco di arrivare al risultato mi accorgo dopo che la sessione è scaduta e quindi appunto se non mi accorgo di questo è non la mia verifica insomma in qualche misura è forviante ok quindi non è non è precisa non è corretta anche nel riportare evidentemente insomma nel riportare i risultati e altri aspetti eh altri aspetti importanti sicuramente sono come già ma spiegava da un punto di vista diciamo così del designer la dottoressa Calanna eh il collocamento giusto il collocamento giusto degli oggetti in in maniera logica e come dire in maniera strutturata in maniera strutturata così da rendere più comprensibili eh i contenuti e da renderli soprattutto comprensibili con una sequenza logica ragionevole cosa che invece spesso non accade cioè spesso mentre si naviga con lo scritto una pagina web vengono presentati dei contenuti poi non so uno tenta di aprire un menù uno io mi aspetto che aprendo un menù le voci di quel menù le vedo subito logicamente immediatamente sotto e invece questo non accade perché magari il menù si apre come dire in tutt'altra visivamente si apre in maniera magari logica e corretta dove deve aprirsi ma per chi non vede siccome non c'è non è strutturata bene logicamente la pagina quindi gli oggetti non sono ordinati eh in maniera corretta succede a quel punto che ci si perde nel ci si perde nel nel navigare la pagina stessa cioè l'utente potrebbe eh essere in qualche modo potrebbe sentirsi come dire in qualche modo a disagio e frustrato proprio perché eh proprio perché non come dire non arriva eseguendo un'azione non non arriva il risultato che ci si aspetta in maniera immediata e altro aspetto da considerare è proprio quello che suggeriva il nostro Simon c'è l'esperienza d'uso ecco ascoltando ascoltando come dire la sua relazione ascoltando la sua disamina mi è venuto in mente per esempio ecco un sito che secondo me da un punto di vista una piattaforma che da un punto di vista eh come dire dell'accessibilità tecnica è probabilmente non non dico perfetto perché la perfezione è difficile ma insomma mh sicuramente a un buon livello ma da un punto di vista dell'usabilità secondo me è un sito che io perlomeno io personalmente divento matto non non so non conosco la vostra esperienza ma quando io vi cito il sito dell'Inps adesso è vero che l'Inps si occupa di un miliardo di cose è altrettanto vero che si occupa di cose anche di una certa eh complessità però diciamo che dal lato dell'utente quando uno deve andare a cercare qualcosa eh onestamente si diventa matto io all'inizio quando dovevo fare la domanda la richiesta ad esempio per la disability card prima che eh la proponessero come novità eh io io per cercare dove si faceva questa richiesta sono diventato matto onestamente questo questo comunque tanto per fare un esempio quindi è importantissimo anche il discorso effettivamente dell'usabilità e questa esigenza si sente in modo particolare quando si navigano per esempio siti eh di grossi eh brand di e-commerce eh mi viene da pensare ad Amazon per esempio ecco Amazon se uno non conosce un po' come dire come è strutturato il sito se uno non conosce un po' i trucchi del mestiere e usa come dire i ferri del mestiere nella maniera giusta e si diventa matti perché quando si vuole portare i importo mh un acquisto con la storia che propongono di continuare lo shopping e ti propongono gli articoli simili e ti propongono insomma eh ti invogliano ti vogliono invogliare in qualche modo a comprare alla fine invece secondo me ti rifrustrano tu chiudi tutto e dici vabbè dai ne parleremo poi un'altra volta e quindi forse si ottiene come dire l'effetto contrario in in questo caso qui e e questo tanto per fare esempi di dove non basta soltanto l'accessibilità tecnica ma effettivamente è importante anche l'esperienza d'uso l'esperienza d'uso eh del dell'utente che si cimenta evidentemente ad utilizzare un servizio o una piattaforma piuttosto che ecco piuttosto che eh come dire navigare anche solo siti di notizie eh e informazione in generale molto importante è l'aspetto eh della formazione e secondo me eh nella formazione andrebbe inclusa come dire l'esperienza con persone disabili che conoscono bene la tecnologia assistiva perché a volte diciamo l'impatto l'impatto eh almeno per i designer e vedo anche per gli sviluppatori come ci è capitato alcune volte l'impatto di queste persone con la tecnologia assistiva eh fatta come dire fatta vedere nella maniera corretta ecco aiuta aiuta molto a capire quali sono i problemi e cosa accade realmente insomma quando eh quando evidentemente insomma una piattaforma è non accessibile o comunque poco accessibile o comunque eh poco utilizzabile quindi anche nella formazione secondo me andrebbe prevista anche una eh come dire un qualche laboratorio di questo tipo eh altrimenti spesso e volentieri eh i designer e gli sviluppatori non si non si rendono conto cioè sembra di parlare eh sembra di parlare di cose eh soltanto teoriche e non però non rendono esattamente l'idea come dire di quello che significa quando si dice che una una come dire una piattaforma o un servizio non è accessibile o ci sono degli elementi bloccanti per cui non si riesce eh in qualche modo a portare a termine un task ecco credo credo di aver detto insomma un po' tutto tenete conto che nella come dire con la tecnologia assistiva si può navigare eh in maniera abbastanza efficiente perché gli screen reader eh prevedono come dire prevedono la possibilità di navigare eh distinguendo fra vari elementi eh della pagina quindi per esempio non so la navigazione per intestazioni se le intestazioni sono poste in maniera corretta e soprattutto in maniera logica nella diciamo in una pagina web ecco navigare quella pagina diventa molto molto più semplice e molto più efficiente e molto eh più rapido proprio il processo di eh navigazione così come la navigazione dei form come la navigazione dei link eh piuttosto che come dire dei pulsanti eh dei pulsanti a selezione multipla insomma tutti quegli elementi insomma con i quali si interagisce eh per evidentemente insomma ottenere un certo risultato eh per cui queste possibilità il diciamo gli screen reader le mettono a disposizione però è evidente che che quegli elementi devono essere dichiarati in maniera corretta eh o attraverso l'HTML direttamente o attraverso appunto l'utilizzo eh del dei tag aria in maniera tale ecco in maniera tale che la persona eh non vedente l'utente non vedente o ipo vedente che sta navigando quella piattaforma possa effettivamente rendersi conto diciamo di quello che sta eh di quello che sta facendo comprendendo bene il significato di tutti gli elementi quindi l'aspetto semantico com'è importante assolutamente assolutamente fondamentale eh adesso nell'esperienza d'uso ad esempio noi osserviamo spesso che ci sono molte molte app quindi parliamo di ambito mobile molte app dove quando si ci si muove con lo screen reader si naviga e si esplora la schermata con lo screen reader molti elementi vengono vengono letti come testo e basta dopo sta al tuo intuito capire che magari chissà andando a cliccare su quel testo succede qualcosa eh ma questo però non va bene nel senso che evidentemente da un punto di vista semantico quel testo a quel testo va anche attribuito un altro senso cioè il senso che è un pulsante piuttosto che che ne so un check box piuttosto che un pulsante radio o d'altro in maniera tale che in maniera tale che la comprensione è più immediata e più come dire è più eh semplice anche e soprattutto è più precisa ecco questo è fondamentale vi ringrazio tutti eh insomma spero di essere stato abbastanza chiaro anche senza slide senza senza cose di mostrare io ti ringrazio sei stato nei tempi anche te perfetto una cosa importantissima che hai detto e voglio ribadirla è proprio il concetto che dici l'ordine dei contenuti l'ordine del focus è fondamentale per la comprensione complensiva del contenuto e questo è un tema magari poi ne parliamo in tavola rotonda eventualmente dove c'è anche una domanda sull'uso di intelligenza artificiale che a questo punto porrò a te sui benefici che porta alle alle persone con con disabilità una domanda che è arrivata nel blocco quindi intanto ti ringrazio e hai ribadito quello che diciamo oramai da anni che comunque eh non c'è migliore esperienza nell'uso delle tecnologie assistive di chi effettivamente le usa quotidianamente e altra cosa importante che hai fatto notare è che spesso eh vi tocca eh cercare di trovare degli stratagemmi per poter utilizzare soluzioni e servizi solo perché magari chi ha sviluppato il prodotto l'ha anche testato ma non l'ha testato in una modalità idonea a uso utente e quindi stiamo di fatto collegando stiamo collegando praticamente tutte tutte le esposizioni e ve lo dico non ci siamo messi d'accordo perché questo è un evento che abbiamo creato in pochissimo tempo abbiamo dato dei temi specifici e nessuno di noi ha visto le slide del materiale degli altri quindi significa tendenzialmente che ragioniamo un po' tutti allo stesso modo probabilmente l'esperienza. Solo 10 secondi Roberto? Sì? Scusa solo 10 secondi per ribadire una cosa attenzione perché il coinvolgimento degli utenti è evidente fondamentale e importante ma in fase di test però occorre coinvolgere utenti esperti attenzione perché la tecnologia va conosciuta molto bene altrimenti ripeto l'analisi può essere forbiante se uno utilizza un utente che non conosce bene lo strumento di cui dispone e quindi questo anche questo è importante. Assolutamente grazie intanto sabato Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!